L'assessore regionale all'economia Leonardo Marras ha illustrato in consiglio un piano di rilancio per Firenze e Fiera, la società che gestisce importanti strutture come la Fortezza d'Abbasso, il Palacongressi e il Palaffari, che ospitano vari eventi, congressi, meeting ed esposizioni nella città di Firenze, di cui la regione detiene circa il 32%. La Giunta propone un aumento di capitale per un totale di 28 milioni di euro. Il piano include anche la ridefinizione della governance dell'azienda e la sottoscrizione del nuovo patto parasociale. Il tutto entro il 31 dicembre e una volta esaurita la procedura di selezione per individuare il nuovo socio privato. Al termine di un lungo dibattito sulla comunicazione è stata approvata a maggioranza, con 24 voti a favore di PD e Italia Viva, uno contrario di René Galletti, una proposta di risoluzione presentata dal Partito Democratico, che impegna la Giunta ad attivarsi affinché una volta esaurita la procedura di selezione per un nuovo socio privato sottoscrittore dell'aumento di capitale della società, venga sottoscritto quanto prima un nuovo patto parasociale. Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto Toscana domani non hanno partecipato al voto. Sì, è una situazione molto delicata, proprio per questo ognuno deve fare la propria parte, tutti i soci pubblici che fanno parte di Firenze Fiere, che tra l'altro hanno approvato anche un percorso per quanto riguarda l'uscita da questa situazione delicata. La società ha presentato un nuovo piano di risanamento e di attività e c'è in questo programma anche la ricerca attraverso un bando di un partner privato. Noi abbiamo visto che in altre situazioni, in altri poli, da dove è arrivato anche un partner privato che abbia un peso, un'esperienza di carattere nazionale e internazionale, è stato in grado di portare un contributo e quindi noi pensiamo che questo debba avvenire anche per Firenze Fiera. Ma con la risoluzione che noi abbiamo presentato, oltre a stare correttamente e coerentemente con gli indirizzi che il Consiglio aveva precedentemente dato all'assessore e alla Giunta in questo piano di risanamento e di rilancio, noi chiediamo anche di cogliere l'occasione perché la Toscana si doti di un polo fioristico regionale o quantomeno ci sia comunque un maggior coordinamento nell'attività delle tre strutture fioristiche che sono appunto Firenze, Massa ed Arezzo. Perché la proposta deve essere una proposta che attrae e richiama in Toscana ma con un'attività sempre più coordinata e non facendosi concorrenza magari tra i poli che sono della nostra regione. Facendo seguito alla comunicazione appunto dell'assessore Marras che abbiamo percepito proprio le difficoltà del momento ma soprattutto quello che sarà il futuro di Firenze Fiera perché in quello che ci è stato riferito si cerca un salvatore, si cerca qualcuno che ci venga a dettare le linee guida, che ci venga ad insegnare quello che invece un'amministrazione o una dirigenza deve saper fare. Cioè aspettare quello che il socio privato che dovrebbe intervenire al quale delegare completamente tutte le strategie e sarà un socio, ci auguriamo, privato che non abbia la maggioranza. Io credo che questa sia la fotografia purtroppo, mi dispiace dirlo, di un'altra eccellenza così come il maggio musicale florentino, così come Firenze Fiera di un fallimento totale di un'organizzazione e di un'amministrazione. Oltretutto noi abbiamo la proposta che avevamo fatta all'aula ma l'avevamo fatta addirittura a gennaio, era quella di rivisitare quelle che sono tutte le fiere della Toscana e eventualmente di uniformare e di fare una progettazione, una programmazione proprio del made in Toscani, usiamo questo termine proprio perché crediamo che il nostro territorio possa esprimere delle eccellenze e credo che abbiamo anche le strutture per poterle valorizzare ed è questo secondo me noi la strada da dover percorrere. Allora la decisione di non partecipare al voto perché la risoluzione presentata dal Partito Democratico aveva una parte estremamente condivisibile che riguardava la volontà di creare un calendario unico che è assolutamente necessario in Toscana che coordini le tre fiere principali, cioè la fiera di Carrara, quella di Arezzo e quella di Firenze, quindi quella parte lì ci trovava favorevole. Ovviamente nella prima parte del testo si esprimeva grande soddisfazione per la scelta della regione toscana su Firenze e Fiera e quello per noi era invotabile, inaccettabile perché c'è tutto tranne che da esprimere grande soddisfazione. La regione toscana si appresta insieme al Comune di Firenze, insieme alla città metropolitana a spendere in Firenze e Fiera altri 16 milioni di euro oltre a tutti quelli che sono stati spesi fino ad oggi e lo fa su un soggetto incapace di fare attività imprenditoriale. Questo non lo dice Fratelli d'Italia, lo dicono i fatti. Firenze e Fiera è 15 anni che non chiude un bilancio in pareggio o inattivo, ne ha chiusi forse uno nel 2010, poi ha sempre perso, oggi ha un bilancio disastroso, è governata da una figura che con tutto il rispetto umano e politico e anche personale, perché ci sono anche amico personalmente, non è in grado di fare il manager, è un politico che ha come merito quello di aver fatto politica per anni col Partito Democratico, ma questo non può essere il merito per cui tu vai a governare un ente fieristico. Stiamo votando, cioè Firenze e Fiera ha votato un piano di risanamento che l'advisor Ernst Young, che è stato chiamato a redigerlo, scrive in prima pagina prendiamo le distanze dai numeri e dalle procedure che ci sono qua dentro perché ce li hanno forniti loro ma non hanno evidenze scientifiche. Parla del piano industriale e lo definisce scarso. Come si può pensare che un soggetto privato arrivi, investa 12 milioni di euro e rilanci Firenze e Fiera? Noi chiediamo semplicemente che la regione toscana, il comune, la città metropolitana prima di spendere 16 milioni di euro dei cittadini, perché di questo si tratta, abbia perlomeno chiarezza e contezza di chi sarà, se ci sarà, se esisterà, questo fantomatico socio privato che dovrebbe arrivare a rilanciare Firenze e Fiera. Se arriva domani da un soggetto serio, da un soggetto posato, da un soggetto che rilancia Firenze e Fiera, ci mancherebbe altro. Noi siamo favorevoli anche a investirci del denaro, ma non a scatola chiusa, non con un piano industriale che l'advisor stesso, pagato da Firenze e Fiera, definisce scarso, perché questo è un problema. Sì, ovviamente il sistema feristico toscano ha bisogno di essere armonizzato, organizzato e programmato. Il nostro è un voto di fiducia sulla possibilità di portare intanto un partner nel privato o nella governance, di alleggerire ovviamente la dimensione e l'impegno pubblico per cercare di rilanciare e migliorare l'integrazione fra realtà come Firenze, Arezzo, Carrara e non solo. Ci sono di mezzo anche le opportunità per le città termali. Serve integrare l'offerta fieristica e serve soprattutto fare un unico calendario a livello nazionale e provare a parlare una lingua sola per fare della Toscana un luogo dove le fiere vengono programmate, programmate, organizzate e distribuite su tutto il territorio regionale facendone di questo un motore di sviluppo. Sicuramente la situazione di Firenze e Fiera è una situazione delicata ma che è anche sintomatica rispetto a una gestione delle società partecipate che già la Corte dei Conti ha censurato sotto molti aspetti da parte di Regione Toscana. Si tratta molte volte di società che presentano bilanci in ritardo, di società nelle quali la Regione non svolge quell'attività centrale anche di governance che sarebbe richiesto, benché in Firenze e Fiera abbia ad oggi esclusivamente un'attività di partecipazione. Si tratta di una situazione in cui la Corte dei Conti addirittura parla di salvataggio ad ogni costo ed è proprio il caso tipico di quello che sta succedendo su Firenze e Fiera, una società che ha delle criticità a livello di indebitamento importanti, una società che Regione Toscana ha deciso comunque di finanziare. Su questo aspetto diciamo che se da un lato si è cercato di ricomporre quella che era stata la frattura tra i soci pubblici, evidente rispetto alla volontà di dare continuità all'attività delle fiere, è chiaro che oggi si pone però il problema di cosa si voglia fare, soprattutto sulla struttura della fortezza. Ci sono in ballo lavoratori, c'è in ballo il futuro di un settore economico che dovrebbe essere comunque un valore trainante per l'economia toscana, quindi sicuramente una scelta non facile. Però la questione centrale è una, oggi che tipo di approccio Regione Toscana vuole dare alle società partecipate? In ultimo ricordo che anche qui la Corte dei Conti censura il fatto che questa Regione concentri le sue partecipazioni in tre società fieristiche, Firenze, ma anche Arezzo e Massacarrara, situazioni anch'esse che presentano difficoltà di bilancio. Io credo che quando si parla di soldi pubblici e di risorse occorra avere le idee chiare sul tipo di attività economica che si va a svolgere e sulle prospettive, altrimenti l'unica alternativa è la messa a liquidazione. Presentato in Consiglio regionale, il Bruscello Poliziano 2023, una storica manifestazione che raggiunge l'84esima edizione. L'appuntamento è fissato per le serate dal 12 al 15 agosto sul sagrato del Duomo di Piazza Grande a Montepulciano, con lo spettacolo intitolato Lorenzo il Magnifico, il poliziano alla Corte dei Medici. Il palcoscenico ospiterà più di 200 bruscellanti provenienti da tutto il territorio, tra coro e solisti, ballerini e figuranti, sotto la direzione artistica di Franco Romani. Il Bruscello affonda le sue radici in tempi lontani. Il nome deriva dall'alboscello, l'albero sotto il quale il canto degli antichi cantastorie raccontava le gesta di personaggi cari alla memoria delle persone di campagna e dei borghi che ospitavano le feste popolari. Il Bruscello non è soltanto un evento culturale, è anche una rievocazione storica, perché la forma espressiva stessa è un'espressione storica, è una tradizione storica del nostro far teatro, raccontare le storie. Quest'anno al centro dell'edizione 2023 del Bruscello di Montepulciano, la storia di Lorenzo il Magnifico è quindi un legame tra Firenze e Montepulciano che si rinnova e che ispira queste diverse giornate di spettacolo all'insegna del rapporto tra Firenze e Montepulciano e quindi dell'identità toscana tutta. Questa espressione teatrale coinvolge moltissime espressioni artistiche, moltissime persone, oltre 200 bruscellanti si contenderanno la scena e devo dire che sono quelle forme di rievocazione storica che più testimoniano la ricchezza culturale ma anche il profilo alto e raffinato della nostra espressione culturale e artistica. Quindi vediamo anche, abbiamo documenti di questa manifestazione molto risalente nel tempo e è bello che possiamo continuare a onorare queste tradizioni innovando però i temi e cercando sempre nuove forme e soprattutto tanti talenti anche giovani che partecipano e arricchiscono la nostra forma culturale, la partecipazione dei nostri cittadini e la capacità di raccontare un'identità culturale ricchissima e antichissima come quella toscana. Il Bruscello Poliziano ormai è diventato uno degli appuntamenti più importanti della stagione culturale di Montepulciano insieme al Cantiere Internazionale d'Arte, al Breviò delle Botte e al Live Rock Festival ha l'assunto chiaramente un'importanza sia da un punto di vista culturale e sociale anche perché affonda le proprie radici nella nostra identità culturale, contadina proprio il Bruscello del secolo scorso prima di arrivare nel 1939 sul Sagrato del Duomo era proprio nelle aglie contadine e quindi diciamo era anche un modo per mitigare il duro lavoro che ha permesso anche di tramandare delle tradizioni per noi di fondamentale importanza e quindi è anche un motivo sicuramente attrattivo, un elemento attrattivo del turismo che segue questo filone culturale ma chiaramente anche un evento soprattutto in favore dei nostri cittadini che sicuramente si raccolgono in Piazza Grande durante le giornate del Bruscello ad assistere appunto a un evento di notevole importanza e appunto per questo che insomma mi sento di ringraziare tutta la compagnia popolare del Bruscello per gli sforzi che anche nel corso degli anni del Covid ha dovuto sostenere per portare in scena questa rappresentazione popolare povera però di grande spessore culturale. Benché questa compagnia veste quest'anno 84 anni di attività e negli ultimi anni ha portato sempre delle novità anche quest'anno abbiamo una novità, la più importante mi piace sottolineare è quella della scelta del maestro di musica che è un giovanissimo che si chiama Imar Canning ed è un vero talento e ci teniamo tantissimo a presentarlo sul nostro palcoscenico, sul nostro sagrato quindi è Lorenzo il Magnifico, il poliziano alla Corte dei Medici, una storia nuova scritta da Chiara Protasi e Irene Tofanini, diretta da Marco Mosconi con le coreografie di Maria Stella Poggioni la direzione artistica di Franco Romani, siamo in Piazza Grande dal 12 al 15 d'agosto. Allora la novità è senz'altro la direzione musicale nel senso che ho preso le redini, c'è stato questo passaggio di testimone con il precedente direttore musicale che è stato Alessio Tiezzi e niente quindi per me è un po' come il battesimo nella compagnia popolare del Bruscello perché diciamo che il Bruscello è sempre stata una manifestazione a cui ho assistito ma appunto ritrovarmi a fare il direttore musicale di questo importantissimo evento è un grande onore e le novità sono nel libretto, nella musica che è un soggetto nuovo, è completamente inedito, non era mai stato scritto precedentemente. 84 anni che viene rappresentato il Bruscello a Montepulciano, una manifestazione che è in costante crescita e che tratta temi sempre molto più approfonditi e con una cura e attenzione alla rappresentazione stessa ma anche di proprio importanza storica con il coinvolgimento di tantissime persone, di tantissimi figuranti, il coro, la musica ecco diciamo che è un motivo ottimo per visitare Montepulciano ma che dà anche uno spunto qualitativo, culturale insomma da non perdere. Quest'anno abbiamo interloquito con la direzione artistica e la direzione musicale del Bruscello per narrare la storia di Agnolo Poliziano proprio perché l'anno prossimo sarà un anniversario doppio del nostro poeta, filologo, intellettuale nostro maggiore e più conosciuto concittadino appunto Agnolo Poliziano e quindi abbiamo pensato nel corso degli anni che si avvicinano al 2024 di celebrare in vario modo questa figura per diciamo avvicinarla sempre di più a tutti, ai nostri concittadini, ai turisti, agli studenti e il Bruscello è uno dei modi per cui appunto abbiamo interloquito e così siamo arrivati alla definizione di un Bruscello in cui fosse protagonista anche Agnolo Poliziano soprattutto appunto nel suo legame storico con Firenze e con la famiglia dei medici.